Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Nel mondo dell'amore ci sono sentiroscuri che a volte non possiamo immaginare. Anche un legame che sembra solido e duraturo può rivelarsi un'illusione nascondendo dietro di sé una storia di tradimento o di manipolazione, oppure talvolta di irrimediabile violenza. Ci troviamo a Cobham, un piccolo villaggio situato nella contea del Surrey, in Inghilterra. È il 9 giugno del 2009 quando una donna chiama il 999 e afferma di aver appena trovato un cadavere. Questa donna è la padrona di una casa situata in Hamilton Avenue. Lei e il marito stavano effettuando le polizie sistemando l'abitazione perché l'inquilino che la occupava è andato via e devono quindi affittarla ad altre persone. Tra le faccende da svolgere rientra quella di svuotare un contenitore con la spazzatura situata all'interno dell'immobile, di fronte alla facciata principale. Persino i netturbini si erano rifiutati di ritirare il pattume dal bidone, considerandolo troppo pieno e pesante, almeno questo secondo alcune fonti. In ogni caso i padroni di casa si avvicinano per scoprire che cosa il precedente inquilino possa aver abbandonato lì dentro. Sollevano il coperchio e intravedono diversi sacchetti. Poi il panico più agghiacciante li assale. Tra i rifiuti spunta una caviglia infestata dai vermi. La proprietaria dell'abitazione recupera il telefono e chiama la polizia. Gli agenti accorrono sul posto, ispezionano il bidone dell'immondizia e concludono che la donna ha ragione. C'è un cadavere lì dentro. Lo avevano probabilmente già intuito prima di sollevare il coperchio, perché il tanfo di decomposizione impregna l'aria. Di certo quel corpo senza vita si trova all'interno del contenitore da un po'. Per di più. È giugno e fa molto caldo, condizione climatica che ha accelerato il processo di decomposizione. I resti nascosti tra i rifiuti appartengono a una donna, sicuramente qualcuno l'ha uccisa. Nel dettaglio viene rinvenuta all'interno di un sacco a pelo e di un sacco della spazzatura. Indossa soltanto della biancheria intima e, sul viso, ha una mascherina per coprire gli occhi di quelle che si utilizzano quando si vuole dormire. Una squadra forense raggiunge la scena per raccogliere quante e più prove possibili prima che il cadavere venga spostato e consegnato al medico legale incaricato dell'autopsia. Qualsiasi reperto può rivelarsi utile per identificare l'autore del crimine. Perquisendo tutta la proprietà dei coniogi, non si individua alcuna stanza o area della casa in cui potrebbe essersi svolto l'omicidio. L'abitazione risulta molto pulita, dunque, qualora ci fossero state delle tracce, qualcuno le aveva meticolosamente eliminate. Nel frattempo, la priorità dei detective è quella di identificare il cadavere. Sia l'assassino che la vittima devono avere un legame particolare con quella casa. Dunque, la polizia indaga sui precedenti inquilini dell'immobile e scopre che una delle ultime persone ad averlo occupato è una donna di 30 anni. Il suo nome è Melanie Wallner e, forse, il corpo ritrovato nel bidone della spassatura è proprio il suo. Durante l'autopsia, il patologo confronta le impronte dentali di Melanie con i denti della vittima e si ottiene la conferma di questo sospetto. Tuttavia, i proprietari della casa, una volta informati, riferiscono alla polizia che Melanie non viveva più lì da circa tre anni, ma c'è di più. Sanno che la donna era morta nel 2006 a causa di un aneurisma cerebrale. Quindi, com'è possibile che il suo corpo sia stato trovato solo ora, per di più, in un contenitore per i rifiuti? Prima di addentrarci ancora di più in questa storia sconcertante, vi racconto un po' di Melanie. Come detto, aveva 30 anni al momento della sua morte e, chi la conosceva, la descrive come una donna brillante e briosa, amichevole e divertente. Melanie era la prima dei due figli di Petrus e Jeanne, provenienti dal Sudafrica. Era nata proprio lì, precisamente a Pretoria, la capitale, dove aveva vissuto per la maggior parte della sua vita. Dopo il diploma, Melanie aveva intrapreso qualche lavoretto per mettere da parte dei soldi. Poi, nel 1996, all'età di 20 anni, aveva deciso di trasferirsi nel Regno Unito. Era un po' spaventata da questo enorme cambiamento, dalla grande distanza che ora la separava dalla sua famiglia, ma aveva fatto questa scelta nella speranza di realizzare un grande sogno, quello di trovare un ottimo lavoro nel campo della ristorazione. Quando si era stabilita in Gran Bretagna, Melanie aveva iniziato a fare esperienza, prima in una compagnia di catering, poi aveva trovato un impiego in un hotel a Londra. Proprio in questo periodo aveva incontrato l'uomo che sarebbe diventato suo marito, Peter Wollner, originario della Germania, cresciuto in un piccolo villaggio bavarese. Peter è figlio unico e, dopo il liceo, aveva studiato per diventare chef presso lo stimato Four Seasons Hotel di Monaco. Una volta conseguita la qualifica, si era arruolato nell'esercito tedesco e aveva lavorato come paramedico per tre anni, per poi riprendere la sua carriera da chef. Peter aveva sempre amato l'ambiente frenetico e creativo che si anima nelle cucine di lusso ed eccelleva nella sua professione. Aveva lavorato in un hotel a Monaco per due anni prima di trasferirsi in Inghilterra nel 2000. In breve tempo il dinamico chef tedesco si era guadagnato la reputazione di maestro di cucina, altamente efficiente, in grado di rendere al meglio anche sotto pressione senza mai lasciar trapelare le proprie emozioni. Melanie e Peter si erano incontrati in un albergo a Londra dove lavoravano entrambi e avevano iniziato subito a frequentarsi. Andavano molto d'accordo, si erano innamorati e nel 2001 si erano sposati. Dopo il matrimonio si erano trasferiti a Cobham, la cittadina nel Surrey, proprio in quella casa, in Hamilton Avenue. Entrambi avevano trovato un lavoro nello stesso albergo. Melanie si occupava del catering mentre Peter faceva lo chef. Sembrava che tutto procedesse per il meglio, la coppia conduceva una vita soddisfacente, ma verso la fine di agosto del 2006 la famiglia della ragazza che vive ancora nel Sudafrica aveva ricevuto una notizia devastante. Melanie era morta all'improvviso a causa di un aneurisma cerebrale. A comunicare la tragedia era stato proprio Peter, suo marito, ma come sappiamo tre anni dopo, nel giugno del 2009, il cadavere di Melanie viene scoperto in un bidone dell'immondizia dai proprietari della casa in cui avevano vissuto i coniugi Warner. La polizia prova a rintracciare Peter, ma non lo trova da nessuna parte. Sembra sparito nel nulla. È lui l'ultimo inquilino che ha lasciato l'immobile di Hamilton Avenue e anche tutti i suoi averi sembrano spariti, infatti non sono emersi durante la perquisizione della casa. Quindi, dov'è Peter ora? Cosa diamine è successo? Se Peter ha abbandonato il corpo della moglie soltanto adesso, dove lo aveva tenuto nascosto per ben tre anni? E perché ha deciso di gettarlo tra i rifiuti proprio ora? Di certo Melanie non era morta perché è vittima di un aneurisma cerebrale, come aveva raccontato Peter, ma le era successo qualcosa di molto più sinistro. Infatti la polizia indaga e scopre che non sussistono dei documenti ufficiali a dimostrazione di un decesso attribuito ad un aneurisma cerebrale. Manca proprio un qualsiasi certificato di morte, dunque nulla prova che la storia di Peter sia vera. L'unica verità è che Melanie è davvero morta da ben tre anni. Il patologo in effetti conferma che aveva perso la vita nel 2006 e spiega che il corpo della donna era stato conservato in un congelatore fino a poco prima del ritrovamento. Dato che Melanie è deceduta da tempo, il medico legale non riesce a stabilire con certezza la causa della sua morte. La vittima però ha una ferita sul volto, un'altra prova che non era stata un aneurisma cerebrale a ucciderla, ma piuttosto un colpo assestato in testa. Infatti sotto l'occhio sinistro Melanie riporta una lesione molto profonda, quindi praticata mediante un oggetto particolarmente pesante. Era stata colpita così forte che alcune parti del cranio risultano fratturate. Il patologo afferma che, senza ricevere cure mediche immediate a seguito di questo tipo di lesione, un essere umano è destinato a morire entro circa un'ora. Dunque Melanie era stata colpita a morte alla testa e poi il suo corpo era stato conservato in un congelatore. Il principale sospettato dell'omicidio è già stato rapidamente identificato. Suo marito, Peter Wollner. La polizia nel frattempo interroga le persone che vivono nella zona in cui abitavano Peter e Melanie nel tentativo di ottenere qualche informazione utile. Il proprietario di un negozio locale dice che conosceva la coppia, in particolare Peter dato che andava spesso nella sua attività per comprare da mangiare. Tuttavia sono circa due settimane che non lo vede, infatti Peter gli aveva detto che sarebbe andato in Germania per fare visita alla sua famiglia. Stranamente, prima di partire, Peter aveva chiesto al proprietario del negozio se fosse interessato ad acquistare un congelatore da lui. Di certo, siccome Peter stava per lasciare la casa di Hamilton Avenue, quell'oggetto non gli serviva più e intendeva disfarsene. Il proprietario del negozio aveva anche accettato di acquistare il freezer, pagandolo 20 sterline e consegnandolo poi al proprio fratello perché era lui ad averne bisogno. La polizia allora parla con il fratello del proprietario del negozio e subito si allarma perché l'uomo spiega che non sta usando il freezer. Il motivo? Beh, ogni volta che lo apre il congelatore emana un odore forte e molto sgradevole, un tanfo di carne lasciata marcire lì dentro per un pezzo. La polizia ormai ha ben pochi dubbi, il corpo di Melanie è rimasto in quel freezer per ben tre anni, quindi sequestra l'oggetto che rappresenta una potenziale prova e lo porta nel laboratorio di medicina legale. Gli investigatori sperano che si possano rilevare delle tracce di DNA o altre prove forensi collegabili all'omicidio di Melanie. Nel frattempo gli altri esami vengono effettuati su alcuni oggetti trovati nella proprietà che Peter e Melanie condividevano in passato. Come detto la casa era molto pulita, ma la squadra forense ha individuato qualcosa nella rimessa presente in giardino. Un materasso. Sembra che questo materasso fosse stato posizionato lì dentro di recente. Al centro del tessuto gli agenti notano questa grande macchia di colore blu. Forse inchiostro o vernice. Qualcuno l'aveva macchiato per sbaglio? Per questo il materasso era finito in quella rimessa? In realtà i detective sospettano che non si sia trattato di un incidente, forse quella vernice blu era stata versata sul materasso per coprire un'altra macchia, una macchia di sangue. Di conseguenza anche il materasso viene consegnato al laboratorio per essere sottoposto a dei test. Gli scienziati forensi tagliano lo strato superiore e lo esaminano scoprendo che, come immaginato, è presente del sangue sotto quella macchia blu. Sangue che corrisponde proprio a quello di Melanie. Probabilmente la giovane donna era stata uccisa su quel materasso. Stava forse dormendo quando suo marito l'aggredita e uccisa. Nel capannone del giardino però i detective hanno trovato anche un pezzo di plastica con delle macchie rosse, una parte del congelatore che Peter aveva venduto. Arrivano anche i risultati relativi all'analisi di piccole tracce di sangue rilevate all'interno del congelatore nonostante fosse stato pulito. Pure in questo caso c'è una corrispondenza. Il sangue appartiene a Melanie. Le prove forensi dimostrano quindi che il suo cadavere era stato davvero infilato dentro quel congelatore. La polizia però ha ancora due grandi quesiti a cui bisogna dare risposta. Perché e quando? Ovvero perché Melanie è stata uccisa e quando è effettivamente avvenuto l'omicidio? Più le indagini proseguono più la polizia è sicura che il colpevole è Peter. Ma quale può essere il suo movente? La risposta a questa domanda forse è contenuta nei diari di Melanie. Infatti lei era solito a scrivere il racconto delle sue giornate su quelle pagine riportando gli alti e i bassi della sua vita. Per fortuna la famiglia della vittima ha consegnato alle forze dell'ordine molti averi appartenuti a Melanie tra cui questi diari. La polizia li ha esaminati e ora ha le idee molto più chiare sul rapporto tra Melanie e Peter. Il matrimonio era davvero in crisi nel periodo precedente alla morte della ragazza perché lei aveva scoperto che il marito la tradiva con una collega di nome Emma che quindi lavorava nel medesimo hotel dove erano stati assunti entrambi i coniugi. Melanie aveva detto a Peter che sapeva della sua relazione segreta, i due avevano avuto una discussione ma alla fine Peter aveva promesso a Melanie che non l'avrebbe mai più tradita. Melanie pur deluse con il cuore a pezzi aveva scelto di credergli, di fidarsi, di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Sul suo diario aveva scritto sono incredibilmente innamorata di mio marito, lotterò per questo matrimonio con tutte le mie forze. Non sono disposta a rinunciare, ho abbastanza speranza per entrambi. Melanie aveva addirittura deciso di rinunciare al suo lavoro perché voleva concedere a Peter i suoi spazi almeno durante il giorno, tanto si sarebbero visti ogni sera a casa. Ma invece di apprezzare questo grande sforzo della moglie, Peter si era approfittato dell'assenza di Melanie per continuare a tradirla con la collega più agevolmente. Dunque era possibile che Melanie se ne fosse resa conto? E che avesse pagato con la vita la sua scoperta? Dopo l'ennesimo tradimento, forse Melanie aveva affrontato Peter e la loro litigata si era conclusa con un orribile delitto. O forse Peter riteneva che Melanie fosse un intralcio alle sue relazioni extracognugali e aveva preferito ammazzarla piuttosto che divorziare. Se sul perché dell'omicidio si elaborano queste ipotesi, il quando è ancora un territorio da esplorare a fondo. La polizia nel tentativo di collocare nel tempo la morte di Melanie cerca di risalire ai suoi movimenti. Quando era stata vista viva per l'ultima volta? I suoi familiari, tanto per cominciare, ne hanno arrivati dal Sudafrica per farle visita e avevano trascorso l'ultima serata con Melanie il 27 agosto del 2006. Avevano ordinato del cibo cinese che la ragazza aveva pagato usando il suo libretto degli assegni. Il giorno dopo i parenti erano ripartiti ed allora non avevano più visto né sentito Melanie. Pochi giorni dopo però Peter li aveva contattati per dare loro la drammatica notizia. Melanie era morta improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale. Quando il patologo ha esaminato il corpo della vittima tre anni dopo il suo decesso, in effetti il contenuto del suo stomaco, ha rilevato la presenza dei resti di cibo cinese. Stendo quindi arreso conto della famiglia, la polizia ritiene che Melanie fosse stata uccisa poche ore dopo quella cena, nella notte del 27 agosto 2006. Peter però ancora non si trova, pare proprio che sia fuggito. Un vicino di casa in Hamilton Avenue dice alla polizia che Peter gli aveva chiesto di aiutarlo a spostare il suo bidone davanti all'abitazione e lui aveva collaborato ignaro del macabro contenuto. Altri vicini hanno visto Peter mentre caricava un furgone preso a noleggio. Alcune di loro l'hanno anche aiutato a sistemare le sue cose all'interno del mezzo. Dopodiché Peter se n'è andato e i vicini non l'hanno più visto. Sapendo che Peter ha noleggiato un furgone, la polizia riesce a risalire alla targa del veicolo e ad analizzare gli spostamenti dell'uomo dopo il suo allontanamento da casa. Emerge che è stato inquadrato da una telecamera per il riconoscimento automatico installata al porto di Dover. Questo circa tre settimane prima che il corpo di Melanie venisse ritrovato. Peter quindi si trovava al porto di Dover. Ma dove era diretto? Nel tentativo di scoprirlo la polizia chiede supporto ai media e al pubblico. Lancia un appello rivelando che bisogna individuare un uomo di nome Peter Wollner perché è importante parlare con lui. I detective sperano che la gente lo riconosca vedendo la sua faccia al telegiornale. Nessun membro della comunità riesce a informare la polizia. Più che altro perché Peter batte tutti sul tempo, chiamando personalmente il 999. Spiega che ha appena visto il servizio sul ritrovamento del corpo nel contenitore per i rifiuti a Cobham. Afferma di essere scioccato e di aver bisogno di parlare con la polizia. Peter in questo momento si trova con la sua ragazza a Malta. È lì che è andato dopo aver lasciato l'Inghilterra. Quindi non è tornato in Germania per far visita alla sua famiglia, come aveva in realtà raccontato. I detective convincono Peter a tornare in Inghilterra così da poter parlare con lui nel modo adeguato, sottoponendolo a un interrogatorio. Appena l'aereo atterra gli agenti lo arrestano e lo portano alla stazione di polizia. L'11 giugno 2010 Peter viene interrogato. I detective sono impazienti di sentire cosa da dire dato che in un certo senso si è consegnato alla polizia da solo. Peter infatti non nega, anzi dice chiaramente di essere il responsabile della morte di Melanie. Afferma di aver ucciso sua moglie, ma per legittima difesa. Questa è la sua versione. La sera del 27 agosto del 2006 lui e sua moglie avevano litigato, ma non a causa della sua infedeltà, bensì per questioni futili. Nello specifico Melanie era stanca e gli rinfacciava di non collaborare mai alle pulizie domestiche. La litera è andata avanti per parecchio tempo perché non smettevano di urlarsi contro reciprocamente. Peter dice che Melanie continuava ad afferrargli il viso isterica, allora lui l'aveva spinta e si era allontanato. Questo comportamento però aveva fomentato la rabbia di sua moglie che lo aveva colpito alle spalle con un mattarello. Lui aveva reagito aggredendola, poi Melanie era caduta e aveva sbattuto la testa. Era comunque riuscita a rialzarsi e, pochi istanti dopo, Peter aveva avvertito un improvviso dolore a una gamba. Abbassando lo sguardo aveva visto del sangue e tre buchi sui suoi jeans, opera di Melanie che l'aveva appena pugnalato per tre volte con un coltello. A questo punto, sempre stando alla ricostruzione di Peter, lui le aveva dato un pugno in faccia. Per una ragione che non so spiegarmi, Peter, dopo aver detto questa cosa, scoppia a ridere durante l'interrogatorio. Poi afferma che Melanie aveva afferrato una grande bistecchiera di ghisa per cercare di colpirlo. Tuttavia, lui era riuscito a strappargliela dalle mani per poi usarla contro di lei, colpendola alla testa per tre volte. È così che Melanie aveva perso la vita. Peter spiega che la mattina successiva aveva comprato un congelatore, l'aveva posizionato nel ripostiglio e ci aveva infilato dentro il corpo senza vita di sua moglie. Aveva deciso di nasconderlo lì dentro. Dopodiché aveva ripulito tutta la casa e pochi giorni dopo si era messo in contatto con la famiglia di lei, in Sudafrica. Peter aveva mentito raccontando che Melanie era morta all'improvviso per un aneurisma cerebrale. Secondo le fonti, la madre di Melanie, Jeanne, aveva raggiunto il surry dopo la terribile notizia, anche per sostenere Peter, affranto dalla perdita della moglie. Nel periodo che Jeanne ha trascorso in Inghilterra, Peter era riuscito a convincerla che era meglio per lei non vedere il corpo di sua figlia, ormai in obitorio, e la donna si era fidata di lui, non poteva immaginare che i resti di Melanie in realtà giaccessero nella rimessa di Peter, dentro un congelatore. In un secondo momento Peter aveva addirittura preparato delle finte ceneri da consegnare alla famiglia di Melanie dicendo che il suo corpo era stato cremato. In verità si era procurato la cenere bruciando degli oggetti di legno su un barbecue, l'aveva poi sistemato in un'urna ed era partito per il Sudafrica. Era andato dai familiari di sua moglie per ingannarli, dando loro i resti fittizi di Melanie, di modo che potessero seppellirli nella fattoria di famiglia. La sorella di Melanie, che era un ministro ordinato, aveva condotto una cerimonia commemorativa al centro città di Pretoria e i membri della famiglia avevano parlato della vita di Melanie in Sudafrica, prima che si trasferisse nel Regno Unito. Amici e parenti ignoravano come fosse la sua vita da donna sposata e in tanti avevano partecipato alla funzione per sostenere la famiglia in lutto e rendere omaggio a Melanie. Proprio durante questa cerimonia Peter sembrava privo di emozioni, risultava un po' goffo e piuttosto disinteressato a fare conversazione, ma nessuno ci aveva badato più di tanto, pensando che fosse ancora sotto shock. D'altronde la famiglia sapeva che Melanie era morta improvvisamente per cause naturali, quindi quel povero marito doveva avere il cuore spezzato. Si ritrovava a essere vedovo alla giovane età di 31 anni. Di sicuro si sentiva sconvolto, circondato dai strani in un paese straniero a piangere la morte della moglie. Dopo la cerimonia funebre, come anticipato, la famiglia aveva portato le cenere di Melanie nella propria fattoria, dove aveva scelto un luogo speciale come sua ultima dimora. Con un gesto toccante, Peter si era sfilato all'anello nuziale, aveva aperto l'urna e lo aveva deposto all'interno. Aveva affermato che quello era il suo modo di stare con Melanie per sempre. Infine aveva detto, non ho mai creduto nel paradiso, ma ora so di avere il paradiso in terra con Melanie. Le simulazioni in termini di gesti e parole che quest'uomo ha messo in atto per coprire l'orrendo crimine che ha compiuto sono assurde e contorte. Giuro non avevo mai sentito parlare di un assassino che ha creato delle ceneri finte e le ha spacciate come i resti di sua moglie, ingannando tutti i suoi cari. Non riesco proprio a immaginare il trauma che deve aver subito la famiglia di Melanie quando la verità è venuta a galla. Deve davvero essere stato terribile ricevere questa notizia nel 2006. Tre anni dopo la morte della ragazza i suoi parenti hanno dovuto tornare a combattere con un dolore ancora più grande perché non sapevano di averla persa a causa di un brutale omicidio, per di più commesso proprio dal marito. L'uomo avrebbe dovuto amare e confortare Melanie. È un gran bugiardo e uno spietato assassino. Come vi ho raccontato, Peter ha ammesso di aver ucciso Melanie, ma ha anche aggiunto che non aveva altra scelta. L'aveva colpita per legittima difesa. I detective però, come è ovvio che sia, non gli credono affatto, bensì pensano che avesse ucciso Melanie a sangue freddo. Infatti, in base alle prove raccolte, pare che lei sia stata uccisa mentre dormiva. Come detto, era emersa anche una mascherina per dormire sul cadavere della donna e tale mascherina era molto sporca, ricoperta di materiale in avanzato stato di decomposizione, danneggiata in corrispondenza dell'occhio sinistro della donna. Se ricordate, Melanie riportava una profonda ferita proprio sotto l'occhio sinistro e il patologo aveva concluso che era stata colpita in quella zona con un oggetto pesante che ne aveva determinato la morte. Quindi, il danneggiamento della mascherina per dormire dimostra che Melanie la indossava quando era stata uccisa. Questa prova evidenzia che la versione di Peter non è altro che una bugia e i detective lo affrontano mostrandogli la mascherina. Lui sostiene di non ricordarla affatto e nega di aver ucciso Melanie nel sonno. La polizia nota che dopo questa rivelazione Peter cambia completamente atteggiamento. Insomma, prima era calmo e tranquillo, infatti la parte iniziale del suo interrogatorio mi è risultata inquietante. Ma da questo momento Peter si fa prendere dal panico e preferisce tacere, infatti non risponde più alle domande degli investigatori. Forse attua un atteggiamento passivo-aggressivo perché sa di essere stato colto inflagrante e fatica a trovare una spiegazione per la presenza della mascherina. Evidentemente era convinto di aver agito in modo perfetto e che la polizia non avrebbe mai trovato nessuna prova per accusarlo dell'omicidio di Melanie, ma al massimo dell'occultamento del suo cadavere. Ciò nonostante, Peter continua a negare di averla uccisa intenzionalmente e i detective devono ancora assodare il suo movente. Il diario di Melanie suggerirebbe che Peter possa averla ammazzata perché lei lo aveva affrontato discutendo del suo tradimento. Siccome Melanie giustamente voleva impedirgli di flirtare e andare a letto con altre donne, lui poteva aver deciso di sbarazzarsi di lei. Presto la polizia trova nuove prove a supporto di quest'ultima teoria. Dopo che Peter è arrivato nel Regno Unito per l'interrogatorio, una squadra di investigatori si è invece diretta a Malta, dove lui sta vivendo in questo periodo. Perquisendo la sua casa in cerca di indizi di colpevolezza, gli agenti notano una grande scatola piena di documenti, cioè estratti conto bancari e tabulati telefonici. Consultando questi ultimi scoprono che, prima della morte di Melanie, Peter aveva chiamato e inviato messaggi a Emma, la collega con cui, ancora, aveva una relazione extraconiugale. Emma però sapeva che Peter e Melanie si erano lasciati, perché così le aveva raccontato lui. Peter non aveva mai smesso di frequentare Emma e aveva continuato a farlo anche dopo la morte di Melanie. Addirittura il giorno dopo l'omicidio, cioè la sera del 28 agosto 2006, Peter aveva portato a cena fuori Emma. Alla fine lui l'aveva invitata a entrare in casa sua ed Emma aveva accettato. Quella notte l'avevano passata insieme, dormendo nel letto di Peter, il letto che condivideva con sua moglie Melanie, il letto su cui l'aveva uccisa brutalmente il giorno prima. Peter, sempre più immerso nel suo vortice di menzogne, nega di aver tradito Melanie e sostiene che non aveva nessuna relazione con Emma, ma ormai la polizia ritiene di avere abbastanza prove per accusarlo dell'omicidio di sua moglie. Il processo inizia nel maggio del 2010 e Peter si dichiara soltanto colpevole di omicidio colposo e di aver impedito la lecita sepoltura del cadavere. In sostanza continua a portare avanti la stessa versione dei fatti, cioè che aveva ucciso Melanie, sì, ma per legittima difesa. Durante l'udienza l'accusa espone la propria visione sullo svolgimento degli eventi, ricostruendo ciò che crede sia successo realmente sulla base delle prove raccolte dalla polizia e delle sue valutazioni. L'accusa ritiene che il delitto fosse stato addirittura premeditato, quindi che Peter aveva ben pianificato di uccidere la moglie. Perché? Beh, ve lo dico io. Per poter andare liberamente a letto con altre donne. Il divorzio? No. Lasciare tua moglie fare quello che vuoi? No. Non è un'opzione valida? Io non capisco, vi giuro. Boh, mica stiamo, non lo so, nel 1800 che se ti sposi una persona poi non la puoi più lasciare e ci devi stare insieme per tutta la vita. Ma santo cielo, io vi giuro, vi giuro, razionalmente non capisco. Non capisco, perché ci sono altri modi per lasciarsi in una coppia e evitare di commettere un delitto, che non è proprio una cosa leggera, insomma, no? Come si fa a uccidere per dei motivi così idioti. Per me questi sono motivi futili, idioti, senza senso. Ma ci rendiamo conto del movente di questo caso? E non è nel primo né l'ultimo, eh? Attenzione, ma io ci rimango sempre male, perché ci sono davvero tante altre opzioni disponibili. Santo Dio, perché dobbiamo sempre, perché queste persone puntano sempre al delitto? Ma poi vi rendete conto di quello che ha tirato su questo uomo per riuscire a farla franca? Ha creato dal nulla delle ceneri, è andato in Sudafrica dalla famiglia di lei e ha partecipato a una cerimonia commemorativa, santo cielo. Andiamo avanti, per favore, andiamo avanti che se no sclero. Tra l'altro è tardi, sono le sette, tutto il pomeriggio che sto registrando, quindi. Peter voleva continuare la sua relazione con la collega Emma e non sopportava che Merani si stesse intromettendo. L'accusa giustamente definisce questo crimine come un omicidio insensato, motivato dall'avidità di quest'uomo che intendeva far posto a una donna diversa nella sua vita. Si ritiene quindi che la sera del 27 agosto 2006, Merani stava dormendo dopo aver passato una serata piacevole insieme alla sua famiglia. Mentre era letto con la mascherina sugli occhi, Peter aveva deciso di cogliere l'occasione di colpirla. Probabilmente voleva aggredirla nel sonno, ma non darle la possibilità di reagire e difendersi. Peter quindi era andato in cucina, aveva recuperato una besticchiera di ghisa e aveva colpito Melanie in testa, appena sotto l'occhio sinistro. Lei dunque era morta così. Poi Peter aveva deciso di nascondere scrupolosamente il corpo di sua moglie, aveva ordinato un congelatore e lo aveva infilato lì dentro, avvolgendolo prima in un sacchetto di plastica e sistemandolo in un vecchio sacco a pelo. Infine aveva spostato il congelatore nella rimessa in giardino, dove era rimasto per quasi tre anni. Peter era riuscito a far la franga per davvero molto tempo, aveva raccontato a tutti la storia fase secondo cui Melanie era morta all'improvviso per un aneurisma cerebrale, aveva realizzato delle finte ceneri da consegnare ai suoi cari, aveva partecipato a una cerimonia funebre organizzata per Melanie in Sudafrica, dove tra l'altro aveva recitato di essere affranto, sconvolto per la sua imprevedibile scomparsa. Dopodiché, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2009, Peter aveva deciso di trasferirsi lasciando la casa in Hamilton Avenue e addirittura l'Inghilterra per cominciare una nuova vita con un'altra ragazza che non era Emma. Doveva quindi disfarsi nel corpo di Melanie e non poteva di certo lasciarlo nel congelatore e andarsene, altrimenti i futuri coinquilini dell'abitazione lo avrebbero trovato e lui sarebbe stato scoperto e arrestato. Così Peter aveva deciso, dopo tre anni, di gettare il corpo di Melanie nel contenitore della spazzatura che aveva in casa e di spostare il recipiente all'esterno. Sperava che i neturbini portassero il cadavere nella discarica con il resto dei rifiuti raccolti, allora non sarebbe stato mai più ritrovato. Poco dopo, Peter aveva pulito il freezer, l'aveva rivenduto e infine aveva lasciato il Regno Unito con la sua nuova fidanzata, diretto a Malta. Tuttavia, non era riuscito a rimanere molto sull'isola, poiché alcune settimane dopo il ritrovamento del corpo di Melanie, i detective avevano già messo insieme i pezzi del puzzle. Presto Peter era dovuto tornare nel Regno Unito per sottoporsi a un interrogatorio. Dopo la tesi dell'accusa, la difesa decide di attenersi alla storia di Peter, quella secondo cui aveva dovuto uccidere Melanie per salvarsi la vita, dato che lei lo aveva aggredito prima. L'aveva già pugnalato tre volte a una gamba con un coltello e stava per colpirlo con la bistecchiera. In effetti, Peter ha davvero tre cicatrici sulla gamba, ma gli esperti affermano che si era autoinflitto quelle ferite da solo per far sembrare più reale la sua storia. Alla fine del processo, la giuria ritiene Peter Wollner colpevole e lo condanna all'ergastolo con un minimo di vent'anni. Onestamente mi spezza il cuore pensare a Melanie, così determinata a far funzionare il suo matrimonio nonostante le difficoltà. Era pronta a perdonare il tradimento di Peter perché lo amava tanto ed era speranzosa di trovare ogni soluzione possibile per far rifiorire il loro rapporto. Melanie gli aveva dato un'altra chance, ma Peter aveva agito da vigliacco fino a diventare pericoloso. Siccome non era in grado di lasciare la donna che aveva sposato, l'aveva eliminata nel modo più ignobile. L'aveva uccisa mentre dormiva nel suo letto, un posto in cui chiunque si senta al sicuro. Mi sconcerta il fatto che sia riuscito a farla franca per così tanto tempo, inorridisco al pensiero che Melanie fosse rimasta in quel dannato congelatore per tre lunghi anni. Visto che nessuno l'aveva trovata, di certo Peter era stato molto attento, probabilmente non lasciava entrare i suoi ospiti nella rimessa in giardino. Questa storia ci era trista perché è ingiusta e assurda, perché era evitabile e perché ancora una volta siamo di fronte a un caso in cui il colpevole riesce a mascherarsi completamente, ingannando e colpendo persino la partner con cui ha condiviso una vita. E questo ragazzi e ragazze ci porta alla fine di questo video. Io già vi ho detto cosa ne penso, insomma, trovo assurdo che un uomo arrivi a inventarsi una cosa del genere, che arrivi a commettere un omicidio per poter tradire la propria moglie. È meglio un delitto di un divorzio? Secondo me no. E trovo assurdo, assurde queste storie. Questa storia in particolare perché questo uomo ha fatto di tutto per non farsi beccare. Ha fatto delle cose davvero ignobili, terribili, una mancanza di rispetto assurda anche nei confronti della famiglia di sua moglie. E trovo che questa cosa sia disgustosa, davvero disgustosa. Non ho mai effettivamente avuto l'occasione di vedere, di studiare un caso simile a questo. Secondo me questo uomo ha davvero fatto di tutto per cercare di farla franca. Voi che cosa ne pensate di questo caso? Sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni come al solito, quindi noi ci becchiamo qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!